mi aiuterà quello che sappiamo è che doveva chiamarsi mia questo nuovo provvedimento che dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza poi invece a quanto pare non si chiamerà mia sono comparsi due cronomi gil e gallo e forse un terzo anche quello che non ha pal quello che non ho capito io che sembra siano tre piccoli porcellini cioè non lo so sembra una roba un po di fantasia quello che non ho capito io è i 600 mila occupabili quindi questa è la prima domanda che le faccio le masi si ricorda che a un certo punto c'erano gli occupabili e il numero è stato individuato in 600 mila che da luglio dovrebbero appunto non avere più il reddito di cittadinanza se lei ha capito quei 600 mila dove li ritroviamo tra gil gallo pal non è troppo semplice però ci si può arrivare con buona volontà dunque molto tempo fa forse addirittura un paio d'anni fa proprio in questo studio io dissi che secondo me il reddito di cittadinanza era in fase di prova dopo una prova congrua di un anno due si doveva ritoccare perché tutte le leggi così complesse vanno fatte poi il ministro del lavoro creò una commissione proprio per questo ritocco i ritocchi furono proposti dalla commissione che devo dire avevano dentro proprio i migliori esperti i migliori esperti italiani questi ritocchi non sono stati fatti in effetti l'attuale interesse per questa legge da parte dell'attuale governo non fa altro che tutto sommato in qualche modo ispirarsi a quei ritocchi quindi tutta quella rivoluzione che doveva essere al momento non esiste lo guardiamo nel dettaglio però mi deve dare la possibilità di sentire anche gli altri interlocutori non ne vuole casasco e doveva essere un